Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Le recenti teorie sul matrimonio di Harry e Meghan hanno sollevato nuove polemiche. Alcuni tabloid suggeriscono che Kate Middleton, moglie del principe William, avrebbe provato gelosia per l'enorme attenzione mediatica rivolta ai duchi del Sussex durante i preparativi delle loro nozze. Secondo i rumors, la principessa di Galles non avrebbe visto di buon occhio l'attenzione dei media sulle nozze di Harry e Meghan, dando così origine ai primi attriti tra i membri della famiglia reale. Quando Meghan ha ufficializzato la sua relazione con il principe Harry, non ha solo galvanizzato l'attenzione del Regno Unito, ma anche conquistato ulteriori fan negli Stati Uniti. Come riferito dal quotidiano inglese The Mirror, il fiorire della loro storia d'amore ha alimentato le voci sulla possibile gelosia di Kate e del marito. Quando i duchi del Sussex hanno annunciato il loro fidanzamento, ad esempio William si sarebbe mostrato con un nuovo taglio di capelli. Sulla vicenda è intervenuto Robert Jobson, autore della biografia Catherine, la principessa di Galles, che uscirà il primo agosto. All'inizio il popolo britannico adorava Meghan, ha commentato, e lei ed Harry monopolizzavano l'attenzione della stampa, una situazione poco gradita a William e Kate che potrebbero aver inconsciamente alzato il tiro. Ci sono stati atti meschini e di gelosia. Lo scrittore ha quindi aggiunto, c'è stata la volta in cui Meghan ha chiesto in prestito del lucidalabbra e Harry ha pensato che Kate glielo avesse dato con riluttanza. Secondo lui, Kate ha fatto una smorfia, dopo che Meghan ne aveva spremuto un po' su un dito, e se lascia Shader grazie quello sono questa grazie su